La maniera che chiude, oh, vedete qui è la nostra maniera, e vedete come è alto il muovo, però lo station acqua viene da sotto, ma lì allora basta fare un palanco, è tutto il riporto, tutto il terreno di riporto, i sassi, quindi filtra la proposta. Abbiamo fatto più volte lavori di idrisolazione, però comunque col tempo l'acqua trova la via, perché questo palazzo è un po' veramente aereo. Fare un palancolato verticale, con tutte le gambe, sulla facciata, verticale, impiazzando delle palancole, da noi abbiamo fatto un po' di duecento anni fa, non ci mangieremo, sì.